Allora scusate, io non devo fare interventi, assolutamente, vi volevo solo comunicare siccome l'incontro è saltato per un problema familiare del sindaco. Allora, l'incontro, l'incontro, però te lo volete sapere, allora, a me è sembrato scusate, ovviamente io sono sceso sapendo perfettamente che non mi sarei preso gli applausi, ma l'ho fatto perché rispetto, no, non mi devo, no, non mi devo, allora scusate, domani l'incontro, siccome io ho detto, poi... Allora, l'incontro è fissato, è stato rimandato a domani alle quindie. Ancora... Allora... Allora... Rimissioni, 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 Rimissioni... Rimissioni, Rimissioni, Rimissioni... Scusate, Rimissioni... Scusate, ripeto... Sì, sì, è stato disperto, problemi, famigliate. Sì, sì, è stato disperto, problemi, famigliate. Sì, sì, è stato disperto, problemi, famigliate. Come avete visto? Come avete visto l'assessore? Tuffone, 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 tuffone. Allora, l'assessore è uscito sempre salvo. Speriamo che non esca una comunità di stampa di aggressioni perché già siamo pieni di questa roba. Allora, abbiamo dimostrato che siamo incazzatissimi ma siamo civilissimi perché l'abbiamo fatto uscire tranquilla.